Bastard brulee, cazzo Dai, la torrella Sta schiena Mi sto lavorando, ansia che comunque Fafni è salito sopra Eccolo di Emma che è quasi morto Eh, ma mi sa che c'è ancora il doppio gauss Timber picca Eh, se ho fatto uno, no? Ma voglio Quella è attrazione? No, 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 è occhio al domination Stiamo perdendo 40 secondi Devo sparare qualcuno dentro Guys, il domination circle Eccolo 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 Cazzo Cazzo Eccolo 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 E io me ne sono dovuto buttare Sì, c'era solo un mezzo nel canale insieme a un genere Guarda no! Ah, cazzo! Eh, sto risalendo su! Che stanno tra l'altro? Ammazza che in quel cazzo di genere abbia stata... Questa moto è quasi fatta, ma c'è due MRM40 Per me stavo accorto Dai, dove mi tira? Ah, c'è un Timber dietro! Beh, beh... Final Flash! Diogo è stato unile Unito 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 Let's start. Battle. Grazie.